Nel giorno della memoria ricordiamo la più grande tragedia della storia umana, la Shoah, causata dal razzismo e dall'odio contro gli ebrei e altre minoranze che subirono deportazioni e morte. Sinti, Rom, testimoni di Geova, omosessuali, serbi, polacchi, oppositori politici, prigionieri di guerra, persone considerate antisociali, mendicanti e vagabondi. Vogliamo però soffermarci su una vicenda speciale avvenuta in Valtellina, ad Aprica, una storia finita bene che ci fa ben sperare nella capacità dell'uomo di sconfiggere il mare e l'indifferenza. Indifferenza. È proprio l'indifferenza che rese possibile la Shoah, la tragedia degli ebrei e delle altre minoranze. Liliana Segre ce lo ricorda sempre e ha voluto che questa parola fosse scritta all'ingresso del museo del binario 21 a Milano che tutti dovremmo visitare. Uno dei principali testimoni della Shoah, Primo Levi, diceva forse abbiamo sbagliato a parlare ai nostri figli, abbiamo adottato un linguaggio retorico, geografico e quindi vago, un linguaggio che non è il nostro, un linguaggio che appartiene agli aguzzini di allora, ai dittatori come Mussolini e Hitler. Cito due parole, leggi razziali e Shoah. O meglio, leggi razziste, olocausto, no, Shoah. Le leggi contro gli ebrei sono state volute dal fascismo nel 1938 per dividere l'umanità in pseudorazze. La razza superiore è germanica, ariana. Le altre razze, latinoeuropea, anglosassone, slava, asiatica, africana, queste leggi sono state chiamate leggi razziali. Sono invece leggi razziste, anti-ebraiche e anti-umane. Leggi ingiuste che escludevano dalla società gli ebrei, trattati peggio degli animali, espulsi dalla società. Non poterono più frequentare le scuole pubbliche né svolgere alcune attività lavorative. Divennero nemici da eliminare, prima con la soppressione dei loro diritti, la privazione della libertà, poi con la deportazione e la soppressione delle loro vite. Noi oggi sappiamo che le razze non esistono. Esiste solo una razza, la razza umana. Le nostre diversità di pelle, costumi, religione, linguaggio, solo diversità di etnie e di cultura. Sono una ricchezza per l'umanità. L'altra parola che voglio chiarire è olocausto. Shoah e olocausto sono parole utilizzate spesso come sinonimi, ma hanno significati ben diversi. Per indicare lo sterminio degli ebrei il termine corretto da usare è quello di Shoah. Olocausto è una parola che deriva dal greco e letteralmente significa interamente bruciato. Era un antico rito religioso in cui un animale, di solito un agnello, una capra, veniva immolato sopra un altare, bruciato e offerto alla divinità. Il fumo che saliva dalla terra al cielo era considerato gradito a Dio. Lo sterminio degli ebrei non ebbe nulla di simile. E il terribile fumo dei camini non fu un'offerta alla divinità. Il popolo ebraico non fu una vittima sacrificale. Fu sterminato da una politica razzista sino al suo genocidio. La parola olocausto dunque va sostituita dalla parola ebraica Shoah, che significa distruzione, catastrofe, tragedia e per estensione annientamento, genocidio del popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale. La Shoah dal 30 gennaio 1933, quando Hitler divenne capo della Germania, poi nel gennaio 1942, quando i nazisti decisero di eliminare il popolo ebraico, sino all'8 maggio 1945. Quando finì la seconda guerra mondiale, in questo periodo milioni di persone vennero soppresse dal nazifascismo, circa 6 milioni di ebrei furono eliminati, un milione erano bambini. Perciò non usiamo la parola olocausto, ma Shoah. Nel 1933 gli ebrei in Europa erano 9 milioni e mezzo. Vediamo questa mappa che descrive e precisa il numero degli ebrei. Nel 1950 in Europa ne restarono meno di 3 milioni e mezzo. In particolare la Polonia, che ne aveva più di 3 milioni, si ridusse ad averne circa 45.000. in questa statistica, in cui c'è il numero degli ebrei appunto tra il 1933 e il 1950, ebbene quasi il 64 per cento degli ebrei fu eliminato o espulso dall'Europa in seguito alla soluzione finale voluta dai nazifascisti. Il fascismo, oltre al razzismo e al militarismo e alla guerra contro altri popoli, fu anche uno dei regimi più repressivi. Alcune immagini dell'Italia ci aiutano a capire questa affermazione in modo molto efficace. Sono tratte da un sito internet che si chiama campifascisti.it, qui vediamo le varie tipologie di istituti di repressione del fascismo. In rosso i campi di concentramento, le località poi di confino, le località di internamento, i campi di lavoro coatto, i campi per prigionieri di guerra in giallo, i campi provinciali della Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre, le località di soggiorno obbligato, i campi di transito, i carceri, i campi per prigionieri di guerra o di staccamenti di lavoro. Questa è una foto davvero un'immagine efficace sull'estensione del sistema di repressione fascista. Era un apparato burocratico destinato a punire e deprimere delinquenti comuni, oppositori politici, vagabondi ed ebrei. Da notare i punti blu scuro sono i comuni destinati all'internamento degli ebrei stranieri, un capillare sistema di repressione. Ad Aprica vi fu il maggior numero di ebrei stranieri internati, dopo il campo di concentramento di Ferramonte di Tarsia in Calabria, che ne ebbe circa 3.000. Per capire cosa è successo agli ebrei di Aprica e come mai furono internati ad Aprica, occorre risalire e andare a quando l'Italia entrò in guerra. Il 10 giugno 1940 l'Italia dichiarò guerra. A quel punto gli ebrei stranieri che stavano in Italia, nelle province slave e nelle colonie, furono dichiarati nemici sottoposti a deportazione nei campi di concentramento e in oltre 600 località di internamento libero. Anche l'internamento libero, tra virgolette, è una parola inventata dal fascismo per mascherare la realtà di una deportazione e prigionia che privava della libertà, certo meno costrittiva del carcere e del campo di detenzione, ma sempre una ingiusta privazione della libertà. In questa tabella vediamo le nazioni da cui provenivano gli ebrei internati. Furono circa 10.000 stranieri internati in questi territori isolati in tutta l'Italia. In questa cartina, dove c'è la Lombardia e un elenco di comuni di internamento, in particolare si notano le province di Como, Bergamo e Brescia, che ebbero davvero numerose località di internamento. Spesso nei luoghi e nei comuni più isolati tra i monti, dove doveva esserci una caserma dei carabinieri che sorvegliava. In Valtellina furono due i comuni destinati all'internamento, Sondrio e Aprica. Soprattutto Aprica ebbe circa 250 ebrei internati, probabilmente furono 300, calcolando anche donne e bambini. Questa è una busta paga. Una busta paga che dimostra quanto il salario fosse basso e le trattenute elevate. È una busta paga di agosto 1944 della ditta Cogne di Aosta. Si tratta di 15 giorni di lavoro. Lo stipendio lordo era di lire 807,05, le trattenute 502,05, pari a oltre il 60%. Il netto era di 305 lire, solo il 38%. Sul retro della busta paga un monito inequivocabile. Il clima di terrore dovuto alla guerra è evidente. Insieme alla repressione che abbiamo visto, insieme alla caccia dei nemici e alla caccia agli ebrei, la guerra porta odio, inimicizia, rivalità, vendette, diffidenza. Cancella la libertà, fomenta il razzismo. Il monito? Taci. Sii disciplinato, sii ordinato, rispetta la gerarchia. Questo era il fascismo. Gli ebrei di Aprica furono chiamati Zagabri, Zagaber. Provenivano dalla Jugoslavia. Perché provenivano dalla Jugoslavia? Perché venne invasa e attaccata dalla Germania e dall'Italia nell'aprile del 1941. Gli ebrei, che lì vi erano sia jugoslavi, ma soprattutto quelli che fuggivano dalle loro nazioni, avevano cercato un rifugio proprio nella Jugoslavia. Ma l'Italia che aveva invaso, ovviamente li deportò. Perché la guerra di aggressione alla Jugoslavia? L'Italia la chiamò guerra di Balcania. Attaccò e riuscì a invadere la Jugoslavia, soprattutto dando forza al nazionalismo croato, fino nazista, di Ante Pavlic. Vedete in rosso tutta la Croazia di Pavlic. In blu le truppe germaniche che avevano occupato la Jugoslavia, in verde scuro, le zone occupate dall'Italia. Un emblematico cartello di vieto di uscire dalla città di Lubiana. Nella provincia di Lubiana, occupata e annessa dall'Italia dopo lo smembramento della Jugoslavia, già nel settembre del 1941 si applicava la pena di morte. Bastava possedere materiale e pubblicazione sovversiva. Sino a luglio 1942, in Slovenia, le truppe italiane distrussero 104 villaggi e 60.000 persone furono deportate. L'obiettivo era trasferire e internare tutti gli sloveni da sostituire con gli italiani. In totale 100.000 Jugoslavi conobbero la durezza dei lager fascisti di Mussolini. Nel campo di Porto Revi erano richiusi 1200 ebrei. In quello sull'isola di Arbe, oggi si chiama Rab, la mortalità dei civili specie donne, vecchi e bambini superava la percentuale del campo nazista di Dachau. Qui una tabella del secondo comando di armata italiano del 4 agosto 1943. Al primo luglio del 1943 erano detenuti in Jugoslavia dagli italiani più di 2000 ebrei. Per lo più a Porto Re e all'isola di Arbe, come vi ho appena detto. A scopo repressivo vi erano 18.000 circa internati. Si calcola comunque che nei lager italiani circa 12.000 furono le vittime jugoslave per denutrizione, stenti, freddo, maltrattamenti e malattie. Ecco l'isola di Arbe con la sua fortezza e la scritta fascista voluta da Mussolini. Vi erano internati a fine luglio 1943 più di 3.000 persone, di cui quasi 1.000 ebrei, 948 ebrei. Questo è il campo di internamento di Arbe è una tendopoli. In questi campi gli internati morivano appunto di stenti, di freddo, di fame, di malattie. In questo terribile contesto gli ebrei vennero deportati in Italia, prima in Istria, Venezia Giulia, poi nei campi di internamento sulla penisola. Molti furono internati anche a Ferramonte di Tarsia e ad Aprica. Gli italiani che arrestarono queste famiglie di ebrei li portarono ad Aprica, che divenne il più grande luogo di internamento libero in Italia. Sono stati rintracciati 269 nomi che si possono consultare nel database online di Anna Pezzuti. Sulla storia di Aprica possiamo leggere un libro importante, Una seconda vita, il titolo. È il libro di Alan Poletti, figlio di emigranti dalla Valtellina alla Nuova Zelanda, professore di fisica nucleare. Nel 2012 ha pubblicato questo libro, Una seconda vita, l'incredibile storia degli ebrei slavi di Aprica scampati alla Shoah, fuggiti in Svizzera, dove appunto ebbero una seconda vita. Alan Poletti al centro, tra Giovanni delle Coste e suo figlio Remo. Giovanni delle Coste, in particolare il più anziano, era un contrabbandiere, ma durante la guerra si trasformò in passatore, cioè in una persona che aiutava chi voleva espatriare e raggiungere la Svizzera. Spesso questo mestiere era comunque pagato e pagato lautamente, anche 5.000 lire a persona. Durante la guerra, il 14 agosto 1944, delle Coste aiutò la famiglia ebrea Trinca Margaroli a superare. In questa mappa intravediamo le località sulla via di fuga per la salvezza da Aprica. La fuga fu organizzata con più gruppi, di circa una ventina di persone. La Corriera fece la spola per portare i bagagli, da Aprica, via Motta, Stazzona, Villa di Tirano, fino al confine elvetico di Frantelone, Lughina, Sasso del Gallo. Erano i vari passaggi che poterono portare in Svizzera. Erano passaggi che venivano spesso usati, soprattutto dai contrabbandieri. Il 27 maggio 2009, Vera Neufeld e Branco Gavrin erano due bambini quando fuggirono da Aprica verso la Svizzera. Sono tornati nel 2009 ad Aprica, hanno ripercorso la via della loro salvezza. Nella fuga del 1943 vi erano circa 100 donne e bambini. Fu un viaggio da incubo, un miracolo, se siamo sopravvissuti. Nel 2013 a Zapei di Aprica, sempre da Aprica, un sentiero sulla via verso Motta. Un altro gruppo ripercorre la via della salvezza, da Aprica verso la Svizzera. In questo paese, a Motta di Villa di Tirano, era nato Don Giuseppe Carozzi, uno dei giusti che hanno organizzato la fuga degli ebrei di Aprica. Da pian di Gendro, gli ebrei studiarono la fuga verso la salvezza. La vista si estende su tutte le Alpi Retiche, sopra Bianzone e Villa di Tirano, fino in Val Poschiavo, in Svizzera. Vladimir Fischer, un ebreo, fu visto spesso con mappe e telescopio per trovare un sentiero di fuga per gli ebrei di Aprica. Suo padre, un avvocato, fu ucciso a Zagabria, nell'agosto del 1941. Richard Kohn, nel luglio del 1942, a due mesi dall'arrivo ad Aprica, era stato direttore amministrativo di una grande fabbrica di birra a Zagabria. Si dedicò ad assistere coloro che erano stati obbligati a fuggire in Jugoslavia dalla Germania e da altri paesi nazisti. Li aiutava ad emigrare in Palestina. Per nove anni, infatti, dal 1932 al 1941, fu capo, dell'ufficio palestinese per la Jugoslavia. Questa è la casa dove visse Richard Kohn con la sua famiglia e la moglie, le due figlie, la sorella, tutti riuscirono a fuggire in Svizzera il 21 settembre del 1943. Ma i genitori di Vladimir Klein, invece, erano già stati deportati ad Auschwitz, dove morirono. Richard Kohn era un militante sionista e si impegnò perché molti bambini potessero raggiungere la terra promessa di Palestina. La comunità degli ebrei ad Aprica era molto unita, ma anche molto ben inserita con il paese degli aprichesi. Qui un gruppo di lavoratori con picconi. Siamo nel maggio 1943, sono uomini di Aprica pronti per il lavoro. Fra loro c'è anche Richard Kohn, il secondo da destra. Una famiglia, la famiglia di Richard Kohn ancora con le due sorelline. Un gruppo di internati con Mira Gavrin e i suoi due figli. Prima della fuga, una decina di persone riuscì a emigrare in Spagna o in altre destinazioni. Estate ad Aprica, Lea Neufeld, Ivan Pusticek e Hedy Pollack. Lea Neufeld divenne psichiatra in Svizzera. Fu un'intracciata dalle ricerche di Alan Poletti. Purtroppo, quando la trovò, era da poco morta. Ivan Pusticek, dopo aver organizzato il 28 ottobre 1943 il passaggio di frontiera di Miro Vilcek e di altre persone, non entrò in Svizzera. Più tardi raggiunse la Jugoslavia e si unì ai partigiani di Tito. Dicembre 1942, un gruppo di bambini. Sono le due sorelline Noemi e Edna Kohn. Dietro c'è il cugino e un amico. Edna morì di difterite nel gennaio 1944, nel campo profughi di Enberg in Svizzera. Nella fuga in Svizzera, tra gli ebrei, vi erano una quarantina di ragazzi e bambini. Una decina di loro avevano meno di sei anni. Un'interessante foto della chiesa di San Pietro di Aprica. C'è un ebreo, Igo Drucker, all'organo. Era un violinista ucraino internato ad Aprica, già al teatro dell'Opera di Vienna. Qui accompagna l'organo il piccolo coro di Aprica. Suonò anche il violino, al violino l'Ave Maria di Gounod, nell'assunta del 1942. Fece parte del gruppo che attraversò la frontiera elvetica, nelle prime ore del mattino del 12 settembre 1943. Ad Aprica, la comunità ebraica, riuscì anche a celebrare alcuni funerali. Qui il funerale di Julius Lausk, nato nel 1865, morto a Sondrio a 77 anni, il 10 agosto del 1942. Come il polacco Wielm Rauchinger, morto a 72 anni ad Aprica, il 19 maggio 1943. Come Walter Stern, viennese, morto a 45 anni, ad Aprica, il 16 agosto 1943. Come Erminia Weil, ebrea tedesca, che invece era morta a Sondrio. Una scuola resca. Gli ebrei riuscirono anche a fare una piccola scuola. Non avevano più diritto ovviamente alla scuola pubblica, ma qui hanno organizzato una piccola scuola con la signorina Brock, che insegnava letteratura francese, Alfred Perle tedesco e storia dell'arte, e con altri insegnanti. Con l'aiuto della Delasem, era un'organizzazione ebrea, che aiutava gli ebrei, ebraica che aiutava gli ebrei, la comunità di Aprica funzionò come un kibbutz. Aveva una piccola sinagoga, la scuola, una mensa, lavoratori di scarpe e artigianato. Alcuni ebrei, come abbiamo visto, aiutavano anche nei lavori dei campi, nella fienagione, o come taglia legna nei boschi. Ecco qui una foto straordinaria, la piccola sinagoga allestita in un albergo, grazie all'aiuto della Delasem, Delegazione per l'assistenza agli emigranti, l'organizzazione ebraica che aiutò gli ebrei anche di Aprica. Berta Schuster, la prima ebrea deportata ad Aprica. Insieme alla sorella Rosa, arrivarono ad Aprica già il 28 dicembre 1941. La foto segnaletica proviene dagli archivi svizzeri. La cosa straordinaria, oltre alla rapidità con cui l'8 settembre organizzarono la grande fuga, la più grande fuga mai avvenuta in Italia, quello che stupisce è la lettera che gli ebrei scrissero alla questura di Sondrio il 9 settembre del 43. In questa lettera avvisano la polizia che li doveva sorvegliare che avrebbero dovuto fuggire. è una lettera straordinaria. La nuova situazione è venuta così d'improvviso e ci ha consigliato di rivolgerci direttamente alla vostra competente autorità, in qualità di rappresentanti della comunità, del gruppo israelita, degli internati dell'Aprica. È possibile che succeda che la regione nella quale ci troviamo diventi base di lotte e battaglie e per la salvezza dei nostri bimbi, donne e vecchie sarebbe opportuno allontanarci e ricoverarci in un posto sicuro ed eventualmente anche oltre i confini del regno. Certi che le superiori autorità comprendano le nostre necessità, speriamo che l'Italia nel momento opportuno ci verrà incontro e ci darà la possibilità di salvare le nostre vite. Insomma, i tre capi della comunità ebraica, Salomon Mosic, Riccardo Kohn, Mirko Pollak, esprimevano il timore per il loro destino, avvisavano le autorità della possibilità di una fuga per mettere in salvo i 250 internati. Nonostante tutte le persecuzioni subite, i timori per la loro sopravvivenza, per il loro futuro, per la fine ignota dei loro cari, molti dei quali furono uccisi nei campi di sterminio indirizzavano parole di gratitudine alle autorità che pure li avevano deportati in Italia, certo salvandoli dagli ustascia e dai nazisti. Una lettera in cui esprimevano riconoscenza e soggezione all'autorità costituita, come se gli ebrei volessero anche prepararsi a un eventuale ritorno in Italia, nel caso la fuga non fosse riuscita. L'incertezza di quei giorni deve avere pesato su uomini che conoscevano bene le leggi, erano così abituati a chiedere un permesso alla questura per ogni cosa che non poterono tacere sulla improrogabile necessità del loro allontanamento per sottrarsi all'arresto e salvare le loro vite dai nazisti che li avrebbero condotti ad una morte certa. Salomon Mosic fu uno dei capi della comunità, scrisse la lettera alla questura di Sondrio. Era nato nel 1888 e era figlio di un agente di borsa di Belgrado. Dopo la scuola superiore era diventato un impiegato di banca e poi direttore a Belgrado, ma nell'aprile del 41 fu costretto a fuggire. Suo padre era stato ucciso, parlava tedesco, francese, italiano, spagnolo e bulgaro. Era un ottimo organizzatore. A lui si deve la mensa comune di Aprica, per chi era indigente, il lavoratorio per riparare e fabbricare le scarpe con l'aiuto della D.C. Richard Kohn, anche lui un altro capo della comunità ebraica, scrisse la lettera alla questura di Sondrio. La firmò. Questa è la foto identificativa che proviene dagli archivi svizzeri. Kohn scopersse di avere la tubercolosi e fu curato in Svizzera, a Davos. Il suo gruppo raggiunse più tardi la Svizzera, rimase indietro per assistere chi si fosse attardato nel cammino o avesse avuto problemi a raggiungere la Svizzera. Mirko Pollack, anche egli firmò la lettera alla questura di Sondrio. Era un avvocato a Zagabria, nato nel 1912, fu arrestato perché è ebreo e internato ad Aprica con la moglie. La famiglia Bozzi di Aprica possedeva una radio. Mirko Pollack la ascoltava, per sapere le notizie trasmesse dalla BBC inglese. Una vicenda particolare è questa famiglia di Alessandro Klein e Agnese Schiller. Questa è la fotosegnaletica della Svizzera. Riuscirono a fuggire in Svizzera l'11 febbraio del 1944 con l'aiuto di Giovanni delle Coste. Fallito il tentativo di andare in Palestina, furono internati a Ferramonti di Tarsia, poi vicino a Vicenza, da cui raggiunsero la Svizzera. La loro fuga è raccontata in un documentario dallo svizzero Leopold Lindbergh, dal titolo L'ultima chance. Con la sorellina rosa c'era il piccolo Oscar Klein, che divenne un noto gezzista deceduto il 12 dicembre 2006. Ecco le foto segnaletiche degli ebrei fuggiti in Svizzera. Ci sono 187 foto dei 220 ebrei fuggiti in Svizzera, secondo la lista di segnalazione in Italia. Tutti si salvarono. Solo la famiglia di Benno Ragendoffer fu arrestata a Tirano l'11 dicembre 1943 dai nazifascisti ed è portata ad Auschwitz. Benno fu ucciso il giorno del suo arrivo, il 6 febbraio 1944. Anche la moglie Regina e la figlia Lucia non sopravvissero allo stermito. I giusti che aiutarono gli ebrei nella fuga verso la Svizzera, il maresciallo dei Carabinieri di Aprica, Bruno Pilat, medaglia d'argento al merito civile, fu arrestato e deportato in Germania, ma poi riuscì a fuggire e aiutò i partigiani in Valtellina. Don Cirillo Vitalini, parroco della piccola parrocchia di Sant'Antonio Abratta, una frazione di Bianzone. Il capitano della finanza di Tirano, Leonardo Marinelli, dopo aver aiutato gli ebrei, fu costretto pure lui a fuggire in Svizzera. Don Giuseppe Carozzi, il giovane prete che organizzò la fuga degli ebrei. Don Giuseppe Carozzi fu il vero riferimento anche in Svizzera della resistenza italiana. Come capo del gruppo Pierino emise in salvo tanti bambini ebrei portati da Salvatore Donati dell'Asem. A lui comunque si deve la salvezza di almeno 160 internati di Aprica, subito dopo l'8 settembre. Nel diario del 1935 Don Carozzi esprime il suo desiderio di volare verso Dio, Excelsior, sempre più in alto. Il ricordo di chi aiutò gli ebrei in una lapide messa a punto ad Aprica il 21 novembre 2012. Aprica meriterebbe un riconoscimento pubblico e un museo, in ricordo degli ebrei internati e delle persone buone di Aprica che li aiutarono a mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi. Un memoriale per ricordare la Shoah e l'accoglienza contro l'indifferenza e il razzismo. Dove sarà finito l'archivio del campo degli ebrei di Aprica? Ce lo domandiamo e se lo domanda anche questo documento. L'archivio del campo di concentramento depositato alla questura di Sondrio dopo la liberazione venne consegnato ad un ufficiale dell'esercito jugoslavo su ordine del comando militare alleato, come si legge in questa lettera del questore di Sondrio datata 1 marzo 1956. c'è ancora molto da scoprire e ricercare sul campo degli internati di Aprica. In conclusione voglio però soffermarvi su queste tre immagini in bianco e nero. Luigi Ferri, sono le immagini di Luigi Ferri, un bambino, il primo testimone della Shoah, sopravvissuto grazie all'aiuto di un medico ebreo austriaco. Il 25 aprile 1945 questo bambino raccontò ad una commissione internazionale l'orrore che aveva vissuto nei campi di sterminio. Fu arrestato a Trieste nel giugno del 1944. Dalla risiera di San Sabba a Trieste fu deportato ad Auschwitz, aveva solo 11 anni. Con lui però ricordiamo, e lo vediamo nel monumento, il dottor Janusz Korczak, il padre degli orfani del ghetto di Varsavia, deportato e ucciso insieme ai suoi bambini dai nazisti nel campo di sterminio di Treblinka il 6 agosto 1942. A lui dobbiamo l'idea di una carta dei diritti dei bambini. Insieme al suo desiderio di avere i diritti dei bambini ricordiamo anche il sogno dei deportati di Mauthausen, espresso nel maggio del 1945. Il sogno di un'Europa libera, pacifica, democratica e accogliente. Un'Europa mai più razzista. Grazie a tutti.